Sì, sì, nel mio occhio, nel mio occhio. Che stai facendo? Ciao! Ciao! Ehi, scusami se mi sono permesso di sedermi qui accanto a te. No, no problemi. Ho visto che sei da sola, capito? Debbè, fammi vedere se... capito? E, ti posso fare qualcosa da bere? Ah, no, grazie. E' tuo, quello? Ah, hai già fatto. Ma tu non sei italiana, tu sei straniera. Yes, I'm American. New York City. Ma, New York City, tu? Buona me, ma, bellissimo l'America. Wonderful, United States. Quella, United States, è buona. Ma, l'Italia ti piace? Oh, yes, sure. Mi piace molto Roma. Sì. Napoli. Napoli. Bari. Brava. Spaghetti, pizza. E cozze. Le cozze ti piacciono? E le cozze veloce ti piacciono? Ti piacciono? Brava. E mi piacciono molto gli uomini italiani. Ti piacciono gli uomini italiani, eh? Buon gustaglia. Però vedo che sai parlare anche l'italiano, è vero? Ehm, un pochino. E quanto? Cento euro. No, io dicevo il fatto dei... Cento euro. Ma va bene. Andiamo? Camera mia? Yeah. Make your money, sure. E vedo. Qua va bene. Qua va bene. Qua va bene? Qua va bene?